Grazie Presidente, carissime consocie, carissimi soci, vorrevo ringraziare appunto il Presidente Professor Parisi per avermi dato l'immeritato onore di presentare alcune delle ricerche che sono in attività, in corso nel mio laboratorio, ma che spero possano attrarre l'interesse dei vari soci. Si vede lo schermo? Sì, sì, si vede. Perfetto, prima di entrare nella parte scientifica volevo fare una disclosure, lavoro per il mio coinvolgimento in alcuni giornali scientifici che sono indicati qui in basso nella depositiva, ma che non hanno nulla a che a vedere con questa linea di ricerca, tantomeno con i dati che presento oggi. Allora, qual è il problema? Il problema è che per esistere come specie, per mantenere delle caratteristiche, dobbiamo far sì che nella progenie, nel passaggio da una generazione all'altra, ci sia un controllo molto molto rigoroso per l'eliminazione di mutazioni, anche di polimorfismi. E quindi l'ovocita, che è la cellula germinale femminile, deve essere sottoposta a un controllo, a una fedeltà della replicazione di livello incredibile. Questo come avviene? Si sa, per alcune cose in generale, che prima della nascita vengono prodotti circa 7 milioni di ovociti, e che già alla nascita... Oddio, non va avanti. Che... Non mi va avanti la depositiva. Vabbè, che già alla nascita, praticamente il numero degli ovociti viene dimezzato, alla pubertà ne rimangono circa 400 mila, e in realtà ne servono circa 4-500 di ovociti fino all'età di 50 anni alla menopausa. Veramente ne servono soltanto 2, 3 o 4 che saranno fertilizzati per produrre dei bambini. Allora, questo è un sistema altamente inefficiente di produzione, perché per produrre la fertilizzazione di 3 o 4 ovociti se ne vanno a produrre 7 milioni. Il motivo di questo è che i controlli di qualità sono di una complessità elevatissima, e quindi il problema è qual è il controllo di qualità, che cosa mantiene a livello meccanicistico, a livello molecolare, la fedeltà del genoma femminile. La proteina di cui volevo parlare oggi e che volevo proporre come interesse per questa funzione è P63, P63 ad alta concentrazione nel nucleo di ovociti, sia primari sia secondari e anche in quelli terziari. Quindi è presente per 50 anni della vita di questo ovocita a una concentrazione estremamente elevata. Che cosa è P63? P63 è omologo, scoperto più recentemente, del precursore della famiglia che è P53, indicato qui nella depositiva, P53 studiato da oltre 50 anni, che è importante nei tumori. Se noi guardiamo tutti quanti i tumori, le mutazioni di P53 sono circa il 50%, cioè per vincere la barriera e diventare tumorale una cellula, deve inattivare il P53. Se controlliamo rispetto ad altri geni, RB1, RAS, NF1, eccetera, nessuno di questi geni nei tumori ha una frequenza di mutazioni, a parte dei casi isolati, paragonabile al P53, che per esempio nei tumori dell'ovaio va intorno al 95%, nei tumori del squamoso cellulare del polmone o della testa-collo va intorno al 90-85%, quindi è una mutazione enorme. Questo per l'omologia ha fatto pensare diversi ricercatori che P63 e P53 facessero cose simili. La famiglia è un po' più complessa perché oltre questi due ne esiste un terzo, P73. Questi geni hanno la capacità, a livello di proteina, di produrre oligomeri, formano dei tetrameri, indicati in un modello, la struttura cristallografica non è stata mai fatta, data la flessibilità delle molecole. Qui vediamo un monomero, uno verde, uno blu, uno rosso e uno giallo, che vanno ad avvolgere in un certo modo tutto quanto la struttura del DNA. Quindi hanno, oltre questo dominio di oligomerizzazione, un dominio di legame con il DNA per svolgere la loro funzione che è quella di transattivare, controllare l'espressione di alti geni. Vediamo come all'interno della famiglia la conservazione che c'è nel DNA binding domain è estremamente elevata, c'è un'evoluzione conservativa in questo convergente, mentre all'estremità da tutti e due i lati, diciamo l'omologia o l'identità in questo caso, in questi numeri è molto bassa, indicando un'evoluzione diciamo divergente. Un'ulteriore complessità che hanno tutti questi geni, tutti e tre, è che in realtà esiste un promotore che va a codificare sul genoma l'espressione delle proteine dall'inizio e quindi gli esoni che contengono il famoso dominio di transattivazione, proteine che noi chiamiamo TA perché contengono il transattivation domain e un secondo promotore che in realtà funziona da questo punto e che va a produrre delle proteine più corte che noi chiamiamo delta N. In aggiunta esistono altri sistemi, quindi non di regolazione genica ma di splicing alternativo dell'RNA nel 3' che vanno a produrre delle isoforme diverse. In parole povere si fanno dalle 3 alle 8 proteine per la proteina delta N e dalle 3 alle 8 proteine del primo promotore. Quindi dallo stesso geno vengono a prodursi fino a 16 proteine diverse, la cui funzione non è del tutto chiara. Volevo a questo punto introdurre due parole, una di positiva, su quello che noi facciamo in laboratorio, di come noi studiamo queste cose. Per capire com'è la funzione di un gene, identifichiamo questo gene, mettiamo dei lock space side, dei marcatori all'inizio e alla fine per eliminare questo gene, quindi viene completamente deleto. Questo qui attraverso dei sistemi di ricombinazione omologa, di trasfezione, va a fare dentro le linee germinale, le cellule embrionali e andiamo poi a produrre un topolino che è un knockout, cioè che non ha quel gene e se noi incrociamo degli eterozigoti di questo tipo praticamente otterremo dei fratellini che sono al 25% normali, wild type, al 25% knockout e al 50% eterozigoti. Tecnologicamente sembra una cosa molto sofisticata, lo è abbastanza e noi pensiamo di essere brevissimi a fare queste cose, però in realtà dal punto di vista culturale è una cosa estremamente diciamo agricola, nel senso che io per sapere come funziona una parte di un'automobile io tolgo la ruota e vedo se è essenziale, in questo caso dico vabbè la macchina non cammina più quindi il mio gene è essenziale, ma io potrei aver tolto la ruota di scorta, quindi è soltanto in alcune condizioni particolari di stress vado a vedere il fenotipo, ma può darsi pure che per esempio io non fumo, che se faccio un knockout, tolgo l'accendino non succede assolutamente niente, la macchina è perfetta, quindi funzione di doppi geni, tripli oppure di geni sostitutivi, quindi funzioni ridondanti e non si vede. È una tecnica un po' complessa in vivo ma che ci permette di studiare veramente la funzione delle proteine in vivo e di vedere cosa succede. Per P63 la prima volta che fu fatto la sorpresa forte è questa qui, il topolino non ha gli arti rispetto a uno normale, non ha né le zampe davanti né quelle di dietro, la pelle è completamente trasparente, l'epidermite che vediamo a livello istologico nella cute normale è completamente mancante in questo topolino e questo perché P63 è stato appunto scoperto per caso attraverso un knockout, è un gene master che controlla la formazione della pelle, quindi non è primariamente un genere a che fare con i tumori come P53, ma controlla la struttura della pelle. Per capire quale dei due promotori abbiamo fatto altri giochetti, ogni tanto mi si blocca, abbiamo fatto altre cose, abbiamo fatto un altro topo transgenico che esprime la proteina del secondo promotore sotto un controllo di un promotore della pelle, lo abbiamo incrociato con un topo senza P63 e quindi questo ha soltanto l'isoforma delta N e vediamo che si riforma la pelle, gli arti cominciano un po' ad abbozzarsi e a livello istologico vediamo che in effetti si riformano in parte le strutture del chiarosinocida. Questo qui vuol dire che lavori sia nostri sia del consorcio Michele De Luca che ho visto prima in trasmissione, un bellissimo naso su ruolo degli oligogloni delle cellule staminali di P63 e anche dell'altro consorcio Stefano Piccolo sui tumori, hanno portato alla conclusione che in realtà questo gene controlla la formazione della pelle, è ristretto nello stato basale attraverso una E3 ligasi, attraverso un microRNA e controlla la formazione della pelle e degli annessi cutanei che sono la mammella, la prostata e per esempio i denti e le cellule cucleari dell'orecchio che ci permettono di ascoltare. Quindi il gene delta N è un controllore della formazione della pelle. Ultimamente abbiamo fatto un nuovo knockout che è un po' più complesso, abbiamo tolto un dominio lesone 13 che contiene una proteina sterile alfa motif che è essenziale nell'isoforma alfa della proteina. Con le solite tecniche abbiamo tolto questo dal topolino e abbiamo fatto un topolino che in realtà la proteina ce l'ha, tipo un occhino, la proteina ce l'ha nei posti dove la deve avere, nelle quantità dove la deve avere, però invece che l'isoforma del tre primo alfa, ce l'isoforma beta, cioè manca solo di questo doppio bundle di alfa elica che è l'estere all'alfa motif. Il topolino è normale, nasce nella condizione normale, però con nostra sorpresa abbiamo trovato che questo topolino, i maschi sono in grado di fare figlie, quindi avere una progenie, le femmine in rosso praticamente non sono in grado di fare neanche una gravidanza e le ovaie qui alla nascita, all'altra della nascita, sono un terzo dell'ovaie normale. Quindi con nostra sorpresa abbiamo scoperto che il p63, lisoforma alfa, è essenziale per la procreazione degli ovociti, secondo che la funzione di controllo di qualità nel maschio nella donna è completamente diversa. Quindi a differenza dell'altra isoforma, il TAP63 non ha a che fare con i tumori, ma controlla la qualità degli ovociti. Se li vediamo a livello istologico, vediamo a 5 giorni dalla nascita, a 10 giorni dalla nascita, nei topolini wild normali, vediamo i follicoli primari, questi piccolini, i follicoli secondari, questi più grandi, che si ingrandiscono. Mentre negli etrozigoti vediamo che praticamente c'è l'assenza totale degli ovociti, cioè non sono per niente presenti, sono completamente spariti dalle ovaie. Per vederli ancora meglio abbiamo fatto un altro dei giochi che a noi piace, abbiamo utilizzato un transgenico con C-kit che controlla le cellule primarie germinali in verde, con la green fluorescent protein, lo abbiamo incrociato con questo knockout che ho descritto e a questo punto gli ovociti sono verdi. E quindi nei topi normali, ad un giorno dalla nascita, 3 giorni, 5 giorni eccetera, vediamo la presenza di ovociti e come avviene nel controllo post natale, questi qui vengono controllati di qualità e ne rimangono circa la metà. Mentre negli etrozigoti, dove c'è questa esoforma diversa di P63, gli ovociti al quarto giorno sono completamente morti, non sono più presenti e muoiono per un meccanismo che noi già conosciamo per altre cose, attraverso l'induzione di geni che controllano la morte cellulare o apoptosi. Se noi li vogliamo visualizzare, visto che li possiamo vedere in verde, gli etrozigoti sono qui in verde, la cellula estromale di bianco, in rosso vediamo la morte cellulare, mentre negli ovociti normali la morte è estremamente limitata. E quindi questa è un'altra topolina, un'altra ovaia di topolina, vediamo come sono molto sensibili e muoiono molto rapidamente. Come avviene questo a livello molecolare? L'isoforma TA è un'isoforma che nelle ovociti esiste come dimero e mentre l'isoforma beta esiste come tetramero, quindi il meccanismo è che la molecola invece di essere dimerica tetramerizza direttamente e quando tetramerizza controlla l'espressione di proteine che ammazzano della morte cellulare Puma e Noxa. Quindi se vogliamo sintetizzare, se c'è un danno puntiforme o un double strand break, quello che succede è che si vengono attivati i meccanismi di riparo del nucleo classici di tutte le cellule, ATM, Cable e la checkpoint kinase numero 2 comincia a fosforilare il dimero inattivo di P63 e questo qua diventa disponibile a fosforilazione di altri kinasi, c'è uno, che porta a un allargamento per ripulsione delle cariche elettriche di queste cariche fosforilate, di questi gruppi fosfati, che apre il dimero, questo dimero una volta aperto invece riassembla, non più come dire, ma come tetramero, funziona trascrizionalmente e ammazza l'ovocita con un meccanismo di morte cellulare programmata attraverso i geni che abbiamo già detto prima. Abbiamo parlato di danno al DNA, che cosa succede se agli ovociti, sempre quelli verdi, e se misuro la morte cellulare, li espongo ad un danno, un danno per esempio da scisplati, quindi simolo una chemioterapia in vitro. Succede che se non c'è danno c'è un pochettino di morte delle cellule qui dentro, però gli ovociti, quelli verdi e le cellule stromali, le altre, si mandeggono inalterate, mentre nel knock out che abbiamo generato, all'improvviso tutte le cellule muoiono, diventano tutte quante rosse e gli ovociti sono completamente morti. C'è una grandissima sensibilità alla morte del danno. E quindi quello che succede è che se noi andiamo a guardare e diamo danno, simuliamo questa volta in vivo nella topolina e diamo una chemioterapia, immaginiamo una donna che sta facendo chemioterapia o radioterapia per tumore, eccetera, che cosa succede? Che c'è mancanza di queste cellule blu di P63 degli ovociti e quindi si crea una infertilità nella donna. Ma se noi blocchiamo le chinasi, a certo punto riusciamo a mantenere gli ovociti e mantenere la fertilità. Il numero di follicoli primari e secondari è mantenuto e queste topoline protette possono anche avere dei figli e quindi possono rigenerare dei figli normali e quindi prevenire quello lì che è una complicanza dei tumori. In parole povere, se c'è un danno al DNA, la presenza di inibitori su queste chinasi mantiene una fertilità normale, cosa che normalmente P63 è in grado di uccidere attraverso l'isoforma TA. È interessante che le stesse forme di inibitori in realtà hanno un affetto opposto sull'altra isoforma delta N che ho descritto primo P53 e vanno a ridurre la formazione del tumore. Mentre avevamo questo lavoro in valutazione, sette mesi fa è uscito un lavoro di un gruppo tedesco che ha identificato mutazioni nelle donne con insufficienza ovarica prematura, mutazioni su P63 che è esattamente quello che studiavamo e chiaramente il referee ci ha chiesto di fare degli studi su questi mutanti e quindi abbiamo preso mutanti che sono tutti intorno alla zona del sum domain con insufficienza ovarica e abbiamo visto che mentre la proteina normale è dimerica, tutti i mutanti di questo tipo hanno, come nel topolino nostro, hanno la P63 nella forma tetramerica, la forma che è in grado di uccidere e di ammazzare. Quindi quello che succede è che normalmente per 50 anni di via dell'ovacida P63 è presente in altra concentrazione è inattivo e non è in grado di uccidere le cellule e quindi mantiene la formazione dei follicoli normale. Mentre se viene attivato per mutazione, per insufficienza ovarica o per danno da chemioterapia, le cellule vanno in apoptosi e le ovaie non hanno più la capacità di avere follicoli maturi. È una capacità soltanto di P63 questo? In realtà no, perché esistono lavori di altri gruppi, questo di Arne Levin, in cui i siti di impianto dell'ovulo fertilizzato nelle tube delle topoline, i topolini hanno 8-10 figli, nella deficienza di P63 praticamente non hanno impianto ovarico dovuto alla mancanza di un fattore trascrizionale controllato da P53 che si chiama LIF, di cui oggi non possiamo parlare. Quindi anche P53 controlla la fertilità femminile attraverso l'impianto dell'uovo fecondato. P63 lo abbiamo già detto, se noi diamo 0,45 grey, in radiazione, gli ovociti muoiono e se invece usiamo un topo senza P63 gli ovociti rimangono perché è P63 che controlla negli ovociti questi meccanismi. Non ho parlato, ma anche P73 controlla la regolazione del canetocor, della formazione nella blastocisti, quindi di cellule multinucleari, di spermez, di aberrazioni cromosomiche. Quindi tutta la famiglia è in grado di controllare la riproduzione materna. Questo vuol dire che delle varie funzioni di tutta la famiglia il controllo della riproduzione femminile, cioè dell'infertilità, è la funzione primaria da cui dopo nell'evoluzione si sono specializzate vari tipi di funzioni, delle varie isofone che hanno a che fare con il cancro, col sistema infiammatorio, con la neurodegenerazione. Nella prima specie dove si trova il Cernorabditis elegans è presente un precursore di P63 e P53, che invece è quello conosciuto nel cancro, viene soltanto molto dopo nell'evoluzione delle specie. Ma andiamo a guardare un attimo nel C. elegans, che è un animaletto che vive 20 giorni e quindi non ha tanti problemi di tumore. Vediamo che questo animaletto, che è presente solo in due specie, femmine ed ermafroditi, i maschi non esistono se ne sono liberati di questo problema, e P63 è soltanto nella formazione degli ovociti, quindi in questa zona qua, e nella nella selezione del controllo di qualità si chiama post-pachetan checkpoint, che è questa zona. Quindi la funzione diciamo evolutivamente primordiale è questa qui, non è nel controllo della qualità degli ovociti, non è in altre forme tipo tumori. Come ha avuto l'evoluzione questa famiglia. Noi passiamo da la TA P73, che è il quality control degli ovociti, quindi il controllo della linea germinale, passiamo a P73, che invece è una funzione di oncosoppressore, blocca giù i tumori, ma nelle cellule somatiche, più varie forme intermedie di altre forme della famiglia. E questo avviene con meccanismi emicolari diversi, perché P63 è dimero, chiuso, inattivo, ad altissime concentrazioni per 50 anni di vita dell'ovocita. P53 invece è aperto, è un tetramero, ad altissime attività, bassissime concentrazioni, ne basta pochissimo per poter essere accumulato. P63 invece deve essere fosforilato, termerizzato, e quindi a questo punto può ammazzare. È proprio la presenza di queste kinasi, che possono essere neppite in maniera selettiva, che ne può regolare la funzione. Ho accennato agli uomini. I maschi fanno altre cose. Come avviene? Abbiamo fatto anche noi un lavoro qui sulla spermatogenesi, ma è un'altra cosa. Questo qui è le tabelle di che cosa sono la conta spermatica normale, normale per l'uomo. Normale per l'uomo hai da avere gli spermatosei che sono mezzi morti, che sono zoppi anchilosari che non riescono a camminare e che soltanto al 97% sono anormali. Alias, i controlli di qualità nell'uomo sono estremamente scadenti, eppure sono sufficienti per permettere quello che diciamo è il miracolo della vita. Questo è un ovocida umano, fertilizzato in vitro, e questo qui va a formare i due nuclei e subito dopo va a formare due, quattro, otto cellule blastocisti. Un meccanismo utile con un attimo accenno a un ricercatore che si chiama J.B.S. Alden. J.B.S. Alden è nato nel 1892 a Oxford, era Reeder, un biochimico all'Università di Cambridge, lavorava sulla cinetica enzimatica allo stesso tempo di Micheli Smenten e lui ha delineato un'altra equazione che è la Briggs-Alden Equation della cinetica enzimatica. Subito dopo lui è diventato un genetista e ha scoperto il principio di Alden e negli anni cinquanta, ai primi anni cinquanta, era talmente turbato dall'occupazione di Suez in Egitto da parte del governo britannico che ha distrutto il passaporto britannico, si è trasferito in India dove è diventato cittadino indiano ed è vissuto fino alla morte nel Budenashwar vicino Calcutta dove ha creato un istituto di genetica molto molto forte. Perché volevo parlare di J.B.S. Alden? Perché J.B.S. Alden è stato quello che per primo ha dimostrato la frequenza di un bassissima frequenza di mutazioni nella linea germinale femminile e ha ipotizzato la presenza di un fattore protettivo della linea germinale femminile in tempi diciamo molto in anticipo con i meccanismi molecolari che ho descritto oggi. E io penso di avervi convinto che probabilmente P63 è il gene principale che controlla questa qualità degli ovociti insieme anche con controllo del canetocolo di P63 e dell'impianto di P53. A questo punto volevo chiudere. Il messaggio da portare a casa è che P63 noi pensiamo sia il gene più importante nella riproduzione femminile perché controlla la fedeltà della linea germinale femminile. Secondo messaggio è che gli uomini devono vivere tra segnali diversi e diciamo non sono efficienti in questo sistema di controllo. Insomma non ho capito bene che cosa servono. Devo ringraziare J.B.S. Alden anche se non lo sa è oltretutto con noi e gli altri collaboratori che abbiamo avuto nel scusate nel nel nostro laboratorio la Candi, la Confloni, Ivano Amelio, Richard Knight eccetera. Con questo vorrevo ringraziare voi tutti per la cortese attenzione. Grazie. Ci sono? Allora Geri ti ringrazio per questa bella conferenza che affronti questo tema molto importante cioè anche le conseguenze non volute dell'evoluzione in quanto questo gene è stato fatto per altre cose e noi ce le ritroviamo su qualcosa che non era in qualche modo programmato. Ci ritroviamo anche su qualcosa che non è affatto programmato. Quindi volevo chiedere e sono molto grato per questa presentazione che è molto chiara e mi domandavo se c'erano domande. Certamente penso che ci siano una domanda. Io sono Gennaro Marino. Gennaro Marino che è anche che è alzato, l'altro Gennaro che è già alzato la mano. E beh tra i Gennari è necessario intendersi. Complimenti Gerry che è molto bello e appunto i collegamenti diciamo che hai fatto veramente interessanti. Il piano molecolare però volevo chiederti questo. Ovviamente mi pare che come al solito le fosforilazioni giocano un ruolo determinante, non hai fatto anche dire. Però ho notato che c'erano anche delle acetilazioni. Non so se puoi commentare questa ulteriore tipologia di modifica post traduzionale e che importanza c'ha nella famiglia di protezione. Allora per P53 e per P73 che sono gli altri due membri le acetilazioni sono molto più studiate. CBP P300 che va ad acetilare dei residui specifici e per poter esercitare la funzione di trascrizione, quindi dopo aver legato sui promotori, è necessario che ci sia questa acetilazione. Quindi il processo in tutta la famiglia generalizzato è che deve esserci per P53 e P63 ci deve essere prima una isomerizzazione della brolina con un'enzima particolare PIN1, poi viene acetilato, viene fosforilato, poi viene acetilato e quindi diventa trascrizionale. Nel P63 questa sequenza è meno studiata, non c'è la isomerizzazione delle proline perché è già presente il legato sul DNA e quindi viene semplicemente fosforilato direttamente una volta che acetilato. Il mondo delle proteine è bello anche per questo fatto, cioè tu praticamente puoi amplificare spaventosamente le funzioni in relazione proprio a questa modulazione delle varie modifiche costatuzionali. Assolutamente sì. Di solito uno punto tutto sulle posforilazioni e sulle chinasi, ma anche sulle chinasi giocano un ruolo importantissimo. Ed è lì dove... E naturalmente divertendomi con la spettromedia di massa qualche cosa sono state implicate in queste identificazioni molto sottili e molto complicate. Grazie. Grazie. Ed è lì che c'è, diciamo, una possibilità con inibitori delle chinasi che sono più specifici di controllare la funzione di questi geni e di bloccarli. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. imbattuti in un gene TCL1 che aveva un fenotipo molto simile, anche se poi il nostro fenotipo è stato, diciamo, definito a livello embrionale, nelle prime fasi dell'embrione, ed era qui la mia domanda, cioè tu descrivi come P63, come gatekeeper del survival o comunque del buono stato di salute dell'ovocita che deve durare 40 anni all'interno del follicolo, ma ti chiedo, e quindi lo descrivi in forma di merica completamente chiuso che inibisce in pratica all'ovocita di andare in apoptosi, se ho ben capito. Ma a livello post, a livello successivo, cioè quando l'ovocita viene fecondato dallo spermatozoo, che come tu giustamente hai sottolineato giusto per fare una battura, ma lo spermatozoo non porta niente all'ovocita, l'ovocita tutta la macchina pronta, lo spermatozoo gli porta solo il DNA, lo spermatozoo non contribuisce a nulla in tutta questa cosa, lo si vede anche dalla sua forma, non ha nessuna proteina che poi dà all'ovocita, ma indipendentemente da questo, a livello embrionale, che cosa succede a livello di, diciamo, fino a blastocisti, se lo sai, se lo avete visto, a P63, perché anche lì deve rimanere comunque in forza delle cellule, non devono andare in apoptosi, quindi mi aspetto. Quando viene riattivato poi P63? Allora, P63 viene immediatamente eliminato. Ok. Nell'uovo fecondato e come viene eliminato, cioè qual è la etriligasi che ne controlla la degradazione, in quel tipo di cellule non lo so. In altri tessuti c'è un etriligasi che abbiamo identificato che si chiama Hitch, che appartiene al dominio Ecte, però nell'ovocita fecondato non lo so, dovrebbe essere la stessa, ma non è stato evidenziato. Quando ricompare P63, ricompare nel tessuto epiteliale, ma ricompare l'altro P63, quello lì del secondo promotore, che è il altro tessuto e che va a fare un'altra funzione. Quindi il controllo trascrizione, il controllo scompare a livello di tutto, sia a livello post-trascrizionale che trascrizionale. Non c'è più, non c'è più. Ok. Grazie, complimenti ancora. Grazie. Ci sono altre domande, altri commenti? Ma io voglio sapere una cosa, se potessi spiegarmi in maniera più succinta possibile, come mai la stessa proteina può da un lato controllare la fedeltà e dall'altro essere fondamentale la fidelity, la fedeltà nel senso di correttezza della riproduzione e dall'altro essere essenziale per il sviluppo del tutto muove. In realtà quello che succede è che esistono, diciamo, due cose vorrei dire. Esistono più, ecco qua, esistono il gene 1, però per mantenere diciamo l'efficienza, le piccole variazioni all'inizio, l'N terminale o alla fine del C terminale, si vanno a fare proteine che va con funzioni completamente diverse. In un caso è un gene appunto, come ho detto, che fa da guardiano dell'ovocida. Invece nella pelle la funzione è tutta un'altra. Michele De Luca ha dimostrato un bel lavoro su PNAS in cui faceva vedere che quella isoforma di P63 controlla gli oligocloni e quindi la staminalità dei charetinociti. Cioè in un caso abbiamo P63 che uccide immediatamente, dall'altra parte controlla le cellule esterminali. Quindi lo stesso gene con piccole variazioni da uccisore da killer diventa invece uno che fa crescere le cellule. Ed è quella funzione, cioè di far crescere, che invece è necessaria per i tumori. Per cui il gene TAPI 73, cioè questo qui, quello lì che uccide degli oligocidi, invece i tumori non esprimono quello, ma sopprimono quel promotore, ne fanno un altro, il delta N, ed è quello lì che invece ha un effetto di proliferazione e quindi per i tumori, tumori di tipo epiteliale, quindi non sarcomi, non altre cose, crea un vantaggio. Quindi i tumori usano l'altra isoforma per loro vantaggio, quindi per proliferare, quindi una funzione molto diversa da parte di, di, eh, dello stesso gene. Non so se sono sperato. Quindi l'isoforma delta N P 63 è quella, sto capendo bene, che normalmente in condizioni benigna e li siamo utilizzata per la crescita della pelle. E la crescita della pelle e poi, allora, la crescita della pelle è, insomma, noi abbiamo sulla pelle, abbiamo circa due metri quadrati di pelle. Ogni trenta giorni questa pelle viene, viene rigenerata. Quindi nel, se non ci fosse morte cellulare, se non ci fosse anche desquamazione forfora, eh, all'età della nostra consocia Rita Levi Montalcini dovremmo avere qualcosa come due chilometri quadrati di pelle. Per cui diciamo, la rigenerazione della pelle è legata a questo isoforma delta N P 63.